Intanto la Fondazione Cariplo parte da una considerazione che la sua iniziativa filantropica tipicamente si estende ben oltre la sua capacità erogativa finanziaria. Ad esempio nel 2019 a fronte di un erogato di 145 milioni di euro si sono stimolate raccolte sui territori che arrivavano circa i 230 milioni di euro. Ma poi che cosa succede? Singolarmente, e questo l'abbiamo visto tantissimo su questo territorio, a fronte della scommessa di un certo numero di denari su un tema i territori reagiscono con delle straordinarie raccolte. Questo è un tema che su questo territorio si è registrato benissimo durante il Covid, nel senso che la Fondazione Comunitaria ha attivato questa importante campagna, siamo il VCO che di fatto alimentava un fondo, che è un fondo emergenza Covid, che in origine aveva trovato spunto da un'erogazione di Fondazione Cariplo di 50 mila euro, però sul territorio si sono attivate raccolte risorse per addirittura 600 mila euro. Questi sono gli effetti economici, ma il volano nel senso più vero nasce dal fatto che spesso i progetti finanziati dalla Cariplo e dalla Fondazione di Comunità attivano delle reti territoriali di prossimità pubblico-privato che non sono quantificabili in termini di quattrini, ma che rappresentano veramente un pilastro a sostegno della società. E quindi le linee d'azione in questo caso sono state due. Recentemente si è concluso il bando Let's Go, che era un bando che avevamo presentato anche qua, che era un bando proprio rivolto a sostenere l'attività ordinaria degli enti del terzo settore. Per la nostra provincia gli enti che hanno fatto domanda sono 30, per un ammontare di 1.200.000-300.000 euro, insomma circa. Adesso si stanno svolgendo le pratiche di istruttore, quindi sapremo i risultati. Sappiamo anche che la Fondazione Cariplo ha destinato ad ogni provincia 500.000 euro, quindi sappiamo che quelli sicuramente saranno del Verbano Cusiossola. E poi la novità è questo fondo che si andrà a costituire prossimamente che si sta organizzando, che sarà un fondo povertà. L'idea di Fondazione Cariplo è di sostenere queste persone in difficoltà assolutamente attuale, perché stiamo parlando di attualità, attraverso delle reti territoriali di prossimità pubblico e privata, che sono quella parte non economica, non valutabile in denari che però i territori hanno. L'idea è proprio quella di costituire un fondo che parte con una donazione iniziale di un'erogazione di 100.000 euro da parte della Fondazione Cariplo e che ingaggia le fondazioni di comunità ad una raccolta sui territori che in sei mesi deve essere almeno del 50%. L'idea è proprio quella quindi di in un certo senso raggruppare, mettere insieme le risorse del territorio, attivare un fundraising specifico su questa cosa e ovviamente questo fondo è un fondo che ci ricorda un po' il meccanismo della sfida. Sarà un fondo totalmente corrente, perché ovviamente i denari devono essere spesi e non patrimonializzati su una necessità del genere. Però è molto bello perché quando noi pensiamo a questo meccanismo, lo dobbiamo sempre pensare, la nostra fondazione di comunità, io dico sempre è nostra, perché la Cariplo sicuramente ha stimolato la sua nascita, ma poi in realtà dobbiamo davvero renderci conto che quel patrimonio lì è frutto veramente della bontà di tantissime persone che hanno donato. Però oltre a questo c'è una credibilità fortissima e l'abbiamo visto durante la raccorta del fondo emergenza, dove la fondazione comunitaria è veramente un posto dove tu doni, ti senti sicuro per la grandissima trasparenza, per la lucidità con cui i soldi sono spesi.